Oggi sono stati presentati a Trieste i sei referendum radicali riguardanti la giustizia. Intanto è già possibile firmare negli uffici comunali, nei tribunali e nei gazebo presenti in tutte le città d'Italia. Franca Fiorellino. La raccolta firme per i dodici referendum radicali è iniziata ovunque. Vi si può aderire recandosi nelle segreterie comunali, alla Corte d'Appello, nei tribunali e nei gazebi. A Trieste oggi il responsabile dei radicali Marco Gentili, accompagnato dal presidente della Camera Penale di Trieste Andrea Frassini, ha illustrato sei dei dodici temi riguardanti la giustizia, una battaglia comune. È un pacchetto referendario urgente perché il Parlamento ha deciso che la riforma della giustizia non fa parte delle riforme costituzionali. E allora se il Parlamento non interviene e ce n'è estremo bisogno, allora è il momento che i cittadini prendano in mano la possibilità di riformare queste leggi. Abbiamo visto che nelle ultime tornate elettorali non c'è stata molta affluenza. Allora il sistema politico è stato sempre contrario al referendum. La potestà la vogliono mantenere loro in Parlamento, però quando il Parlamento non interviene è un dovere dei cittadini in qualche modo firmare per proporre queste riforme. Portiamo avanti questo discorso, chiamiamolo della riforma della giustizia. Abbiamo fatto anche numerosi conveni, conveni addirittura del titolo Chi ha paura della riforma, che abbiamo proprio portato queste proposte che sono affini ai referendum dei radicali. Al centro della conferenza sei dei dodici temi, quelli della responsabilità civile dei magistrati, rientro nelle funzioni proprie dei magistrati fuori ruolo, garantendo la separazione dei poteri ed evitando la commistione tra magistratura e amministrazione, la cancellazione dell'abuso della custodia cautelare, ma anche dell'ergastolo. Il sesto quesito riguarda l'annoso problema della separazione delle carriere dei magistrati. Presente anche il rappresentante dei 5 Stelle Stefano Patuanelli.